Inghiottiti dal mare in burrasca a poco meno di due miglia dalla costa. La tempesta che ieri si è abbattuta sul litorale abruzzese ha portato con sé Elia Artone, 64 anni, originario del Gargano, ma da anni residente a Giulianova, e Carlo Mazzi, giuliese, di 53 anni. I due erano pescatori molto esperti, il primo armatore di diverse imbarcazioni, da poco andato in pensione, l'altro figlio d'arte, una vita legata al mare. Il moto peschereccio Eliana, che portava il nome della figlia di Artone, 12 metri di lunghezza, si è trovato al centro di un vero e proprio ciclone che non ha lasciato scampo agli unici due occupanti dell'imbarcazione. L'allarme è scattato attorno alle 15, quando i familiari di Artone, preoccupati dal peggioramento delle condizioni meteo e dal fatto che non riuscivano più a mettersi in contatto con l'imbarcazione con i due marittimi, nel frattempo impegnate a disincagliare le reti da pesca a strascico, che non consentivano la partenza del moto pesca, hanno deciso di chiamare la guardia costiera. Nell'ultimo contatto con i familiari, Artone aveva parlato di problemi tecnici ed è stato alle 13.30, prima che si scatenasse la tempesta perfetta in cui si è trovata Eliana. Attorno alle 15, quindi, la macchina dei soccorsi si è messa in moto, coordinata dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Pescara. Tre le motovedette partite da Giulianova, da Pescara e da San Benedetto del Tronto che hanno affrontato le condizioni avverse del mare Forza 3 e del vento che soffiava a 15 nodi. Nelle ricerche è stato coinvolto anche un elicottero che in quel momento si trovava a Pescara per fare ritorno alla base di Sarsana in Liguria. Alle 17.45 i peggiori incubi dei familiari che nel frattempo si erano assepati nel porto di Giulianova in attesa di notizie si materializzano con il ritrovamento di alcuni rottami dell'Eliana e solo il preludio alla tragedia. Il natante era affondato non molto lontano dalla zona dei primi ritrovamenti. Attorno alle 18.30 vengono localizzate le vittime che successivamente sbarcano nel porto di Giulianova tra lo sgomento e la disperazione di quanti hanno sperato fino alla fine in un epilogo positivo delle ricerche in mare.